Ciao amici e amiche di Schialper! Oggi siamo qui per presentarvi il nuovo scarpone K2, il Dispatch Gluiman, quindi uno scarpone quattro ganci per il free touring e questo è il modello pensato specificatamente per le donne. Il Dispatch è sicuramente uno scarpone pensato per il free touring quindi con un bel peso, una bella rigidità, in taglia 24 e mezzo arriva quasi a 1,4 kg e 1,60 kg. Il Flex 110, quattro ganci classici con possibilità di micro regolazione per ogni gancio e invece la leva ski wall che è una leva classica rimando su un punto. Il materiale dello scarpone è il Pebax, suola Vibram e gambetto molto strutturato con linguettone bello rigido che sostiene bene la gamba e la possibilità di mettere i lacci per una maggiore precisione. L'entrata è molto comoda quindi si entra facilmente, la calzata è medio larga, i volumi sono corretti, può dare un pochino di fastidio, un pochino di pressione sul collo del piede. Una volta che si chiudono i quattro ganci e si regolano bene sulle proprie sensazioni, questo scarpone è veramente super stabile, super rigido, può reggere veramente degli sci importanti, strutturati e fa divertire parecchio in discese anche a grandi velocità con curve veramente ad ampio raggio. La camminata è abbastanza confortevole, in effetti il range of motion del gambetto è di 60 gradi e si sente tutto nel senso che sia in avanti che indietro non fa resistenza, quindi è uno scarpone che può essere apprezzato da una sciatrice esigente che cerca comunque buone sensazioni in discesa, performance ma anche divertimento.